su 25 che già hanno effettuato il primo dei quattro esercizi ora è la volta della giapponese Yukari Kawamoto prova della FUNE per la giapponese ripetiamo 9.35 il punteggio per Samantha Ferrari anche la campionessa d'Italia è impegnata come la giapponese alla FUNE il punteggio forse è eccessivamente basso per la prestazione della campionessa d'Italia un po' basso, poteva avere qualche dina in più sicuramente poteva essere valutata forse con un decimo, un decimo e mezzo sì grazie a tutti ed ora dopo la prova della giapponese Kawamoto grazie a tutti grazie a tutti